Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada Ena 1, coda per traffico in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Roma. Ena 11 restano rallentamenti e code per traffico verso Firenze, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Prato Ovest e il Bivo con l'A1. E arriviamo in Fipili, rallentamenti verso Firenze, tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico urbano di Firenze per soste irregolari con intralcio, restringimento di carreggiata e rallentamenti in viale dei Cadorna. Segniamo inoltre la chiusura di Via del Roseto con blocco temporaneo della circolazione per anomalia stradale. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, il treno 4070 Foligno-Firenze viaggia con 19 minuti di ritardo. Buon versetto in Toscana Info, servizio in collaborazione con l'Origione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie per la visione!